Vrestelmania Backlash è stato un pay per view ottimo che però sarà inevitabilmente segnato a vita come uno degli eventi in cui è avvenuto uno dei più grandi scempi della storia della WWE. Ma partiamo con il primo match. Rhea Ripley contro Asuka contro Charlotte Flair, triple threat match per il titolo di campionessa femminile di Raw. Il match è stato pieno di belle mosse e scambi notevoli ma non c'è stato altro. Il wrestling non è l'Ultimate Fighting Championship o una qualsiasi altra federazione di MMA dove conta solo il match, solo il lottato. Deve esserci una storyline che porta a quel match e qui la storyline è stata pessima. Deve esserci uno storytelling, ossia il match deve raccontarmi una storia sua, deve avere una narrativa e non l'ha avuta. E il finale poi, pessimo, con Charlotte Flair che finisce inspiegabilmente e goffamente fuori dal ring e Rhea Ripley, proprio come a Vrestelmania, si riprende alla grande dopo un calcio che avrebbe dovuto stenderla al tappeto e riesce a schienare Asuka. Pessimo, voto 5 su 10. Ray Mysterio e suo figlio Dominic Mysterio vanno all'assalto dei titoli di coppia di SmackDown detenuti da Dolph Ziggler e Robert Roode. Il match è stato per la maggior parte del tempo un handicap match, visto che Ray ha combattuto quasi tutto il match da solo, con Dominic rimasto dietro le quinte per un attacco subito nel backstage. Il finale super telefonato, Dominic ritorna giusto in tempo per aiutare il padre a vincere il match e cinture. Detto questo, è stato un grande match, anche se è durato un po' troppo, ed era meglio farlo a Vrestelmania, così da avere un Vrestelmania Moments. Voto 7,5 su 10. Lumberjack match Damien Priest contro The Miz accompagnato da John Morrison. Che dire, la WWE ha venduto questo match ad Army of the Dead, film in uscita, prossimamente in uscita, per una marchetta pubblicitaria. La WWE non ha bisogno e non deve fare questo. Gli zombie a bordo ring? Dai, per favore. Il match poi, tra l'altro, è stato pessimo. Voto 0 su 10. È proprio 0, non senza voto, proprio 0. Bianca Belair difende il titolo di campionessa femminile di SmackDown dall'assalto di Bayley in un single match. Match bellissimo. Entrambe hanno combattuto veramente molto bene. La storyline che ha portato a questo match è stata veramente scadente, ma lo storytelling del match ha sistemato un po' le cose. Almeno per questo pay per view. Continuo a ribadire che Bayley è una delle migliori Vrestler di sempre. E mi dispiace che spesso, da troppi, viene sottovalutata. Voto 8 su 10. Triple threat match per il titolo di campione WWE. Bobby Lashley difende la cintura dall'assalto di Braun Strowman e Drew McIntyre. È stato un match fisico, duro, cattivo, spettacolare. Mi sono divertito tantissimo. Ottimo lo storytelling del match. Bravissimi gli atleti nel lottato. Finale fatto bene con Lashley che si assenta per un po' dalla contesa, ma torna in tempo per sfruttare un momento favorevole e vincere il match. I suplex su Strowman, il belly to belly di Drew McIntyre sullo stesso Strowman, il bodyslam sempre di Drew, sempre su Strowman, è pura poesia. È il wrestling. Voto 9 su 10. Single match per il titolo di campione universale. Roman Reigns difende la cintura dall'assalto di Cesaro. Grande contesa. Cesaro perde, ma non ne esce ridimensionato. Molti parlano di vittoria pulita di Roman Reigns, ma così non è stato. Cesaro aveva un problema al braccio ed ha combattuto come un leone uscendo dal ring a testa alta. Magari, in condizioni di parità fisica, forse, Cesaro avrebbe vinto. Questo è quello che ci dice il match. Seth Rollins alla fine attacca Cesaro e fa presagire un momentaneo allontanamento di quest'ultimo dalla corsa al titolo universale. A meno che Rollins non reciti il ruolo del terzo incomodo tra lui, ossia Cesaro, e Roman Reigns. Voto 8 su 10. Si conclude qui questo video, ragazzi. Vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti altri contenuti. In descrizione vi lascio anche il link delle pagine Facebook e Instagram del canale. Se volete seguitemi anche lì, c'è anche il link di Apron Ring, che è una pagina che si trova su Facebook che parla di wrestling a 360 gradi da WWE. E non solo, vi invito a mettere mi piace. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione e noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli! Ciao!